Domenico Barba, Massimo Loviso e Domenico Rubino sono i nuovi sindaci rispettivamente dei comuni di Pertosa, Polla e Sassano. Mattinata intensa e ricca di incognite quella di oggi in cui nei tre comuni è stato il momento di conoscere i nuovi primi cittadini. In tutti e tre i casi un cambio certo alla guida dell'ente comunale. A Sassano e Pertosa, a cambio della guardia, a seguito del raggiungimento per i precedenti primi cittadini del numero massimo di mandati consentiti. Michele Caggiano, ben prima del termine del suo mandato, aveva annunciato l'indisponibilità a proseguire nel percorso politico, lasciando quindi spazio ai giovani che in questi anni lo hanno accompagnato alla guida del Comune. Un lavoro che è risultato apprezzato dato che il suo vice sindaco ha ricevuto il mandato dal popolo per guidare il Comune in continuità con quanto fatto finora. 330 voti ottenuti da Domenico Barba con la lista Pertosa Futura, doppiando la lista numero tre Paese Mio, cappeggiata da Francesco Gagliardi che si ferma a 159 preferenze. Solo due voti invece per la lista cappeggiata da Corrado Caputi, partito valore umano. Cambio non in continuità invece a Sassano, dove ad aggiudicarsi la vittoria finale è la lista Sassosano, cappeggiata da Domenico Rubino, peraltro anche interessato da una strana vicenda verificatasi ieri quando Wikipedia aveva già, ben prima dello spoglio, assegnato la guida del Comune di Sassano a Rubino, ipotizzandone la vittoria. Vittoria che è arrivata sullo sfidante Antonio D'Amato, candidato alla carica di primo cittadino per la lista Sassano ancora si può, composta da una parte degli amministratori uscenti che passano quindi all'opposizione. Anche Polla è stata chiamata al voto in questo anno in maniera inaspettata e dolorosa. L'improvvisa morte del sindaco Rocco Giuliano, avvenuto lo scorso maggio, ha reso necessario il ricorso alle urne per la scelta di una nuova compagine amministrativa con la reggenza affidata al vice sindaco Massimo Loviso in questi mesi di transizione. Dalla reggenza alla effettività. Il popolo pollese sceglie la continuità e riaffide il mandato alla lista Pollesi per Polla con candidato sindaco proprio il reggente e vice sindaco dell'amministrazione Giuliano Massimo Loviso, che raccoglie così ufficialmente l'eredità lasciata dal suo predecessore, ricordandolo nelle prime parole dopo la conferma. Nel golfo di Policastro e cambiamento a Ispani, dove dopo anni di guida del comune affidata a Marilinda Martino, i cittadini scelgono un nuovo volto ed un nuovo progetto, affidando le sorti del paese nelle mani di Franco Giudice della lista Siamo Ispani.